Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Nuovo Corriere Nazionale, un The Journal TV. Come tutte le mattine, ci viene inviato durante la notte dal collega Giuseppe Castellini che salutiamo. Maggioranza Pigliatutto, Salvini, Movimento 5 Stelle, ora Fibrilla, Rischi, Manovra. L'intervista, cioè Simone Piloni, perché il DDL sull'affidamento condiviso? Poi riforma pensioni tra promesse e conti reali, è Antonio Maglia. E qui sotto il titolo forte è Unione Europea, forte iniziativa italiana, riforma. Ecco il documento Savona, chiamate gli stati, fare presto e bene. ANAS controlli le autostrade, Polito difende un fallimento, Giuseppe Scandi che scrive l'intervento. Andiamo a vedere qui da spalla, eccola qui, un attimo, che sistema, così possiamo vedere tutto. La sinistra sembra un milite gnoto e Sandro Roazzi che scrive, vediamo, eccolo qua, l'intervista con Giorgio, benvenuto, suona la sveglia. L'analisi, voto Unione Europea, l'incognete di un'alleanza con Orban, che poi criptovalute scatta l'ora delle big bossa del PSG, calcio. E andiamo avanti, passiamo velocemente sul manifesto dei valori e qui andiamo invece alla pagina 3. Industria, produzione giù, l'occupazione sale, tocca il massimo dal 2015, gli ultimi dati dell'Istat. Juncker, il nazionalismo è un veleno pericoloso, il discorso a Strasburgo, rafforzeremo l'euro. Come vuole rafforzare l'euro Juncker? La credeva morta, ritrova la figlia dopo 25 anni, a Madrid, eccola qua, luglio, 73, era. Pilar, dice, viene ricoverata presso la clinica Santa Cristina per dare la luce a sua figlia, ma le dicono che qualcosa è andato storto e la sua piccola è morta. In realtà si legge su 20minutos.es che sta per Espagna, è diventata una bebé robada, cioè sottratta alla famiglia naturale, è stata data in adozione, madre e figlia si sono rincontrate dopo 25 anni. Immaginate un po' che tragedia. La municipale blocca il bordello delle bambole. La polizia municipale di Torino ha bloccato l'attività della casa delle bambole di gomma. Motivo del blitz non sono però le bambole di gomma. La questione ruota il fatto che il bordello delle bambole, come è stato ribattezzato secondo gli agenti del reparto commerciale della polizia municipale, non ha le autorizzazioni che servono per affittare le camere. Ha 80 euro ogni mezz'ora, bambola compresa. Avrete capito bene, è un bordello con le bambole. Insomma, zecca, zecca 6 nel mirino. Minacce al procuratore di Agrigento. Il PM ha avviato l'inchiesta sulla nave di Ciotti in cui è indagato Salvino. Unione, l'Italia, Unione Europea, l'Italia scatta, c'è il documento Savona. L'Italia assumerà tutte le iniziative per un gruppo di lavoro di alto livello di tutti gli stati dell'Unione Europea. Il ministro ha inviato un documento a Bruxelles da titolo Una Politeia per un'Europa diversa, più forte, più equa. Serve una rinnovata interpretazione dei trattati e ciò va fatto prima delle elezioni europee. Eccolo qua a Savona, poi la politizione italiana è che la politica economica deve essere orientata sulla crescita. La sinistra, sembra un minite ignoto, forse avrebbero dovuto fare queste seggiasi molto prima, no? Che ne dite? Abbiamo cancellato socialisti laici, cattolici, progressisti da sinistra oggi. Chi rappresenta, ha ragione a dirlo, sembra un minite ignoto, si è chiaro, ha ragionissimo. Giorgio Benvenuto parla, scusate ma deve essere lasciato aperto il brazo, Giorgio Benvenuto parla di presidente della Fondazione Nenni, già leader della UIL e presidente della Commissione Finanze. Grave le straneità di rapporti con i corpi intermedi che invece con i loro limiti sono un tembio della società giustissima, assolutamente lucida come analisi, però non sono pessimista. La sinistra di buone ragioni ne ha molte per far sentire la propria voce. Su questo non sono fatto d'accordo, infatti. Salvini piglia tutto, il Movimento 5 Stelle fibrilla e contrattacca sulla manovra. Intanto i pentasedati si sbarcano dai leghisti nel voto sull'Ungheria. Il voto Unione Europea è l'incognito di un'alleanza con Orban, diritti umani, è chiaramente lo che scrive, diritti umani procedura di infrazione contro l'Ungheria. Sotto. Eccolo qua Simone Pillone. La bigenitorialità perfetta. Non è pro, scusate, pro padri, ma pro figli. Parla Pillone della lega autore del DDL sull'affidamento condiviso. È Alessio Garofani che scrive. Nel 2015 l'8% dei minori affidato alla sola mamma. Riforma delle pensioni tra promesse e conti reali. Da Brodolini alla quota 100 indicata dall'attuale governo, storie prospettive di una questione irrisolta. Sarà irrisolta, ma le ragioni espresse dal ministro Salvini mi sono sembrate molto legittime. Polito a difesa di un fallimento, perché l'attacco ad Anas e alla necessità di un suo ruolo di controllo sulle autostrade è una riverenza a un capitalismo senza regole. Avanti ancora. Economia. Giulio Romei. Titolo. Nasce il polo europeo del design. Sarà uno dei principali gruppi a livello mondiale. Italia. Stipendi avanti piano. Soprattutto nel mezzogiorno la situazione è tragica. Voglio. Non solo nel mezzogiorno. Oh Bernacchia. La notte fashion di Milano. Stasera negozi aperti. Caccia al tesoro e il concerto di Annalisa. Poi moda e famiglie tagliate 500 euro di budget all'anno. L'anno è il triste primato. Il 54% delle vendite in Italia è avvenuto tramite promozioni. E poi lo sport. Cryptovalute. Scatta l'ora dei big. Il PSG lancerà un token. Prima storica adessione da parte di un tap club. E poi fisco spagnolo la tocca a Marcello. Eccolo qui. Multa con multa e condanna. Il brasiliano o Marcello ha ammesso l'evasione fiscale. E poi chiude la pagina. Processi e ricorsi d'estate nera del calcio. Non finisce mai. In campo. Catania. Avellino. Palermo. Chievo. In ballo. Promozioni. Risarcimenti. Boom. Abbiamo finito. Disprecia sempre quando terminiamo le pagine del Corriere Nazionale. Grazie a chi ce l'invia. Grazie appunto a Giuseppe Castellini. Grazie a tutto lo staff di redazione. Bravi. Bravi. Buon giornale leggibile. E niente. Buona giornata. Buona giornata a voi. Sono le ore aspettate perché non ho più. Mi è sparito il l'orologio e sono quindi in grado. Non in grado di darvi l'orario. Eccolo qua. È tornato. 8 e 40 e 25 secondi. 13 settembre giovedì 2018. Grazie. Buongiorno da un giornativo da Marcello e dal Corriere Nazionale.